buongiorno a tutti e benvenuti grazie per l'invito Nico è sempre un piacere collaborare e poter contribuire a portare informazione prevenzione cultura e quello che stai facendo attraverso i tuoi seminari è veramente importante per tutti noi darò il mio piccolo contributo scusandomi per non essere lì ma se mi vedete in faccia capite perché non sono in piena forma e purtroppo ho fatto due notti veramente non in ottima forma quindi parlerò di salute ma non sono al massimo ho fatto una congestione ho mangiato qualcosa che non che non andava scusatemi allora parleremo di sport di performance di potenza già avete lì maestri che hanno fatto lezioni importantissimi su questo aspetto di allenamento metodo recupero mi addentro nel mondo dello sport attraverso l'epigenetica innanzitutto per cambiare qualcosa dobbiamo costruire un modello nuovo che renda la realtà obsoleta perché spesso continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto e otteniamo gli stessi risultati questa presentazione è proprio dedicata a chi esplora nella maniera a tutti coloro che pur di fronte a mille difficoltà hanno saputo varcare i limiti di territori inesplorati che nell'ora più buia hanno mantenuto vivo anche solo un piccolo barlume di speranza e hanno affrontato con l'estremo sacrificio il sistema per un bene superiore e proprio per questo hanno vinto per sempre ecco noi siamo esploratori e la grande forza che abbiamo è non è quella di non cadere mai ma rialzarsi ogni volta che si cade e anche avere un atteggiamento una mentalità sempre vincente che ci pone degli obiettivi e poi li raggiunge la storia insegna che esistono momenti nella storia in cui tutto quello che valeva prima non vale più sapete quante ricerche che ormai contraddicono tutto quello che sembrava verità modelli nuovi occorrono nuove persone nuovi professionisti nuove modalità nuovi atteggiamenti e avere nuovi occhi probabilmente beh chiaramente siamo nella globalizzazione allora abbiamo bisogno di adattarsi a questo cambiamento eh ognuno ha la sua visione e anche la sua credenza la sua verità io penso che sia arrivato il momento di unire le forze e guardare quello che ci unisce e non quello che ci separa quando parliamo di salute io faccio sempre questo esempio questo è un acquario dove dovrebbero vivere dei pesci nell'acqua pulita piena di ossigeno dove dovremmo nutrire questi pesci con il cibo appropriato però pensate noi eh sempre di più mettiamo in questo acquario dell'inchiostro questo inchiostro non è altro che il monosso di carbonio il benzene il particolato ero disperso il cibo spazzatura e le sostanze chimiche tutto questo intasa funzionalità a livello cellulare intasa il nostro besecchio il tessuto connettivo e quindi l'inquinamento è uno dei cardini una delle delle chiavi più importanti che dovremmo affrontare ora e probabilmente già tardi e nei prossimi anni per il futuro delle nostre generazioni perché dico sempre che la vita è urgente il dna non è il tuo destino è proprio questo che anche il times 2010 e ancora poi più tardi si uscì con questa copertina dove attenzione tutte le scelte che fanno i tuoi genitori influenzeranno sulla salute delle future generazioni e anche quello che fai in gravidanza influenzerà la salute dei tuoi figli e allora perché si si continua a vedere persone che fumano a dieci anni dodici anni eh bevono alcol mangiano cibo spazzatura eh oppure vivono un ambiente inquinato e non si difendono in maniera adeguata se vi chiedo quando è l'ultima volta che avete sentito parlare inquinamento beh poco fa mi ho accennato io ma il problema è che quando parliamo di performance sportiva noi dobbiamo assolutamente capire che gli atleti hanno bisogno di essere ben riposati alimentati idratati per una performance energia ottimale abbiamo bisogno dell'allenamento è un metodo voi siete dei maestri complimenti a tutto il lavoro veramente che fate la nutrizione l'integrazione l'ambiente lo stress gli integratori alimentari sono fondamentale oggi dobbiamo aumentare la nostra capacità antiossidante dobbiamo modulare lo stress ossidativo modulare qui attenzione a grossi quantitativi di antiossidanti che bloccano le difese immunitarie allora cosa stiamo facendo oggi per essere dove vogliamo essere domani per magari raggiungere un fisico migliore per vivere a lungo per raggiungere vita agli anni o anni alla vita quindi meglio anni alla vita qualità della vita noi parliamo di informazione che è l'arma più importante per la prevenzione la cultura della salute attraverso l'epigenetica la genetica vi anticipo già che l'epigenetica è il software della vita il 98 per cento la genetica è il 2 per cento dobbiamo partire anche da una consapevolezza della disfunzione mitocondriale il motore delle nostre cellule che noi che ci vengono donati dalla linea materna e quindi è fondamentale che i nostri mitocondri funzionano in maniera perfetta perché altrimenti non consumano adeguatamente l'ossigeno inizia l'infiammazione silente oppure quando c'è un'ipossia quindi non c'è abbastanza ossigeno a livello cellulare quindi attenzione la carenza di ossigeno provoca acidosi l'acidosi provoca stress ossidativo ossidativo infiammazione noi dobbiamo bloccare questo circolo virtuoso attraverso migliorare l'area che respiriamo non è più possibile non areare i locali lo dico anche a voi che frequentate le palestre monitorare la ionizzazione dell'aria arieggiare molto bene dove vi allenate e poi il cibo che mangiamo ogni giorno esce una dieta del momento come le carenze nutrizionali non se ne parla assolutamente si parla solo di vitamina D no c'è veramente le carenze nutrizionali ce ne sono tantissime e spesso subito come la vitamina C l'acqua che beviamo il movimento la postura l'ambiente i campi elettromagnetici che nessuno tiene in considerazione eppure dovremmo usare il cellulare solo in emergenza ci dice il ricercatore del CNR il professore Fiorenzo Marinelli e invece ce l'abbiamo addirittura in tasca lo portiamo a dormire no quando si dorme il cellulare fuori dalla stanza spengere wifi attenzione ai campi elettromagnetici creano un danno importantissimo a noi e le future generazioni e poi ritmi sonno veglia attraverso la luce il sole la luna e poi i pensieri l'apnei le emozioni ecco tutto questo dovremmo portare nella nostra proprio nel nostro raccoglitore di sapienza e parlare anche di carenza di ossigeno idrogeno ATP di funzione mitocondriale DNA nucleare dobbiamo parlare di danni al microcircolo dobbiamo parlare di endotelio di cellule di membrana cellulare di tutto il discorso della cascata ormonale dovremmo parlare assolutamente di carenze nutrizionali e di intossicazione a metalli pesanti questo è tutto quello che condiziona la nostra salute l'epigenetica e allora le informazioni epigenetiche permettono la comunicazione attraverso la vibrazione e la risonanza e noi attraverso tutte queste informazioni abbiamo proprio i segnali che poi alla fine creano il nostro corpo il nostro metabolismo creano la materia è un trasformazione denominato un processo di trasformazione denominato vita e dall'altro il metabolismo che ha ripercussioni sull'epigenetica ecco che noi mangiamo per produrre idrogeno respiriamo per avere l'ossigeno dalla combinazione di ossigeno e idrogeno l'energia per la vita ma cosa mangiamo e cosa respiriamo? quanto di voi controllano l'aria che respirano o il cibo che mangiano le etichette, i conservanti, tutti i nutrienti che sono contenuti in quei cibi che mangiamo filiera corta, stare attenti che non vengano usati i pesticidi, i conservanti è veramente difficile, è veramente difficile pensate da qui a 10, 15, 20 anni cosa succederà allora noi andiamo in disfunzione mitocondriale non produciamo ATP nella maniera adeguata e quindi inizia i vari danni ai tessuti ecco perché è fondamentale conoscere in maniera personalizzata, individuale quali sono le carenze di vitamine, di minerali, le interferenze con i campi elettromagnetici la capacità antiossidante, le sfide ambientali cioè la capacità che quindi metalli pesanti, radiazioni, sostanze chimiche influiscono sulle nostre cellule e danneggiano le nostre cellule il sistema gastrointestinale, la lipidomica, quindi gli acidi grassi essenziali gli aminoacidi, l'apporto e il consumo di aminoacidi quindi l'importanza delle proteine i cibi che magari non sono compatibili con la nostra dieta e continuiamo a mangiare in maniera monotona ecco noi possiamo consigliare sicuramente per una performance ottimale uno stile di vita minore e questo sicuramente lo fate però potete cambiare ambiente dove vi allenate oppure probabilmente sì, la città dove vivete non lo so, la casa, il lavoro capite che tutto l'impatto ambientale lo abbiamo lì in questi luoghi di vita, di lavoro, dove viviamo è questo che dobbiamo avere chiaro come il fatto che l'epigenetica modula al 60-70% la riprogrammazione a livello epigenetico delle nostre cellule allora la domanda che faccio è questa sei in equilibrio con mente, corpo, emozioni e ambiente perché è qui che dobbiamo lavorare non solo sul giusto equilibrio nutrizionale seppur importante ecco perché avere dei test di diagnosi semplici che in 12 minuti ci possono dare una risposta avrei fatto qualche test a alcuni di voi ma ci sarà la possibilità in altre sedi noi abbiamo la possibilità veramente di conoscere quali sono le carenze di quella persona quale è l'impatto ambientale di quella persona qual è il sistema neuroendocrino emozionale il sistema gastrointestinale e poi possiamo lavorare sulla corretta ossigenazione delle cellule mettere a posto l'orologio biologico noi alle 6, alle 7 quando va giù il sole l'inverno è un po' alle 4 ma diciamo che siamo abituati a accendere la luce bene, riattiviamo il nostro motore e quindi rischiamo veramente di usare di stressare oltremodo il nostro organismo quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? faccio sempre questa domanda perché deve essere la chiave qui dobbiamo fare molta attenzione come dormiamo e dove viviamo 4 su 10 muoiono di infarto ictus c'è un discorso di reali rischi congeniti c'è un discorso di costituzione della nascita linea materna, la familiarità l'epigenetica e poi mille giorni di vita ma le malattie neurodegenerative la teloscorisi, metaboliche, i tumori sono in aumento ma anche la capacità di recuperare da un allenamento e l'altro senza andare nelle malattie stanchezza cronica, fibromialgia dolori, infiammazioni perché poi non ci occupiamo neanche dell'aspettativa di vita della rimetilazione del DNA che dobbiamo quindi controllare con adeguato apporto nutraceutico basta pensare all'estrosimetionina al controllo dell'omocisteina al giusto apporto di vitamine e folati e quindi amminoacidi è fondamentale controllare l'omocisteina che deve stare sotto i 10 sicuro ma ogni punto sopra 6 raddoppia il rischio cardiovascolare quindi fate l'omocisteina perché è un biomarker fondamentale per valutare lo stato di salute come lo stress ossidativo come il test epigenetico che si fa sul bulbo del capello poi lo vedremo quindi noi dobbiamo lavorare sulle difese immunitarie sul sistema immunitario non solo virus ma vedete c'è una mole di lavoro che incide che condiziona che danneggia le nostre cellule e il sistema immunitario perché le patologie si sviluppano a livello cellulare siamo 100.000 miliardi di cellule ed ha il DNA mitocondriale che decide la longevità e poi dove vivono queste cellule la matrice extracellulare il mesenchino il tessuto connettivo che dovrebbe essere sempre ben idratato pulito ossigenato nutrito in maniera ottimale con formulazioni biodisponibili assimilabili con magari prodotti che drenano che disintossicano depurano l'organismo in profondità guardate abbiamo 500.000 morti premature in Europa per inquinamento non possiamo continuare così e questa è una fonte ufficiale dell'Agenzia dell'Ambiente e quindi dobbiamo tutelare la vita ecco perché parliamo di epigenetica nello sport la riprogrammazione fisiologica la rigenerazione dei nostri nessuti dei nostri muscoli delle nostre cellule perché questa è la via per la vera prevenzione perché l'epigenetica condiziona malattie importanti come i tumori ma dobbiamo parlare solo di tumori no parliamo anche di performance parliamo di salute parliamo di prevenzione parliamo di come non far entrare nel circolo vizioso della vita queste sostanze tossiche dobbiamo fare vera prevenzione le malattie si programmano a livello fetale è lì che sono state mappate più di 270 sostanze tossiche nel cordero umbilicale pensate cosa può capitare a questi bambini l'inquinante il particolato è disperso purtroppo il PM0 1 1 2 5 passa la barriera e sprogramma livello epigenetico la vita quindi danneggia pesantemente le future generazioni che poi come sapete l'epigenetica si trasmette a livello transgenerazionale alla terza quarta quinta generazione ci hanno donato questo mondo meraviglioso eppure noi guardate compriamo pubblicità viviamo in un mondo malato il 90% delle persone lo fa purtroppo senza tenere conto che non c'è solo l'inquinamento che conosciamo ma ce n'è varie fonti di inquinamento acustico elettromagnetico sferico idrico marino si salvi veramente chi può e questa è la fotografia della nostra società ma continuiamo a fare finta di niente finché ci sarà un momento che arriverà il game over pensate che solo il fumo di una sigaretta eh ma cosa vuoi una sigaretta bene innanzitutto una boccata di sigaretta impiega 500 ore per essere abbattuta a terra quindi pensate tutti quelli che arrivano si fumano il fumo passivo degli altri tanto a gratis ma nello stesso momento il fumo di una sigaretta inquina quanto un motore diesel e persino più di un tiro e questo è fonte istituto tumori di Milano stiamo parlando di cose importanti come ho scritto qualche tempo fa di novembre ho scritto andrà tutto bene l'importante è che tutti siano vaccinati poi in questi 30 anni che proveranno a ridurre l'inquinamento anche se morirete da danni di inquinamento molte persone nasceranno malate a causa epigenetica da inquinamento nessun problema capite che è veramente urgente la vita è urgente guardate cosa stiamo facendo al nostro al nostro mondo questo è il fiume più inquinato del mondo il materiale che utilizziamo non si decompone più ormai 140.000 sostanze chimiche il glifosato mangiamo dei cibi veramente contaminati una spesa per la prevenzione che è pari a zero invece la spendiamo in chemioterapici invece che in cultura in prevenzione nelle scuole nell'asili nei genitori nelle famiglie non ne parla nessuno e poi ci ritroviamo con 371.000 morti per tumore maligno nel 2019 e loro stessi la fonte l'Ion in situazione italiana oncologia medica ci dice che queste morti sono dovute all'esposizione sostanze tossiche stile di vita alterazioni genetiche infezioni dieta sovrappeso obesità l'avete sentito parlare in questa manipolazione mediatica in questi due anni di queste cose di questa statistica ufficiale non se ne parla e di questi fattori di rischio agenti chimici formaldeide benzene alluminio alcol cromo amianto il radon si vive si lavora magari negli scantinati e lì magari si respira radon che è altamente tossico a livello polmonare e non solo attenzione al gas radon scantinati oppure al primo piano attenzione areaggiate sempre molto bene e perché tutte le malattie poi condizionano la salute delle future generazioni a livello fetale quello che fai prima dalla gravidanza in gravidanza condiziona la salute delle future generazioni e allora nella salute dico sempre raccogli quello che sembra ma non solo questo è un documento ufficiale del senato della repubblica che ci dice attenzione l'effetto dell'inquilamento ambientale sull'incidenza dei tumori delle malformazioni feto-orientali ed epigenetiche dove già si è stato dimostrato che questo porterà potenziali conseguenze negative a carico dello sviluppo e manifestazione di malattie nell'infanzia nel corso della vita e attraverso trasmissioni trans-relazionali capite che ormai si sta sfuggendo tutto di mano dove l'esposizione chimica ambientale influenza il nostro metabolismo allora cosa dobbiamo fare dobbiamo continuare a vaccinare i pesci o a pulire la vasca è chiaro che dobbiamo magari ci vorrebbero ci vorranno tutte e due non so ognuno ha la sua opinione oggi ma bisogna stare molto attenti e quindi stare molto attenti al rafforzamento del nostro sistema immunitario attraverso stile di vita sano ambiente carenze nutrizionali sistema gastrointestinale perché per esempio l'obesità viene programmata già nella pancia della mamma che mangia zuccheri coca cola pasta carboidrati e quindi come succede in america e poi adesso lo stiamo portando anche in italia obesità in ome come vedete a destra quel bambino è genetica ma quello naturalmente che vedete lì è epigenetico è tutto epigenetico ecco che noi incominciamo andare a fare la spesa con calamite perché anche i pesci sono pieni di metalli quindi attenzione al pesce spada attenzione al tonno attenzione al salmone il salmone non può contenere omega 3 negli allevamenti perché non riesce più a a saltare per andare a deporre le uova quindi e poi intossicato c'è pieno di antibiotici metalli pesanti attenzione a questi pesci perché danneggia la nostra salute il danno da metalli pesanti è pericolosissima cadmio piombo alluminio mercurio gadolino state attenti ai metalli pesanti provocano neurodegenerazione quindi amalgame dentari piercing attenzione il metallo è dannoso come cucinare con pentola di alluminio il caffè con la moca in alluminio il cartoccio in alluminio attenzione perché l'inquinamento agisce sui geni e quindi alla fine blocca l'asolutramento del DNA a livello estonico e quindi crea infiammazione malattia questa è la fotografia della nostra società e poi la ciliegina sulla torta i campi elettromagnetici guardate cosa stiamo facendo i bambini di 5 anni 10 anni nell'adulto e continuiamo a utilizzare questo immondo strumento diabolico che sta danneggiando condizionando intere generazioni perché? perché è anche dopaminergico quindi attiva le stesse aree di droga e zucchero quindi crea dipendenza bisogna proteggersi state attenti non portate il cellulare in tasca davanti perché brucia i gioielli di famiglia e le ovaie state attenti non lo tenete nella stanza dove dormite spingete il wifi prima di andare a dormire è fondamentale e poi wifi è già 5G il wifi di ultima generazione e quindi non possiamo continuare a vivere in un ambiente così stiamo vivendo in un ambiente incompatibile con la vita e poi diciamo eh c'è un po' di mal di testa sono stressato aggiungi anche una pregherina dico se perché compriamo pubblicità e viviamo in un mondo malato dove già guardate il wifi nelle scuole sta aumentando i casi di autismo in una concausa legata all'inquinamento metalli pesanti chiaro di soggetti predisposti ma come fai a sapere se una persona è predisposta o no? Eh si dovrebbe fare tutto un discorso legato alla salute della madre dei padri prima del concepimento e sulle disfunzioni mitocondriali e sulle carenze di ossigeno e sulla metilazione e sull'impatto ambientale e si apre un mondo dove alla fine noi siamo acqua quindi 98% di molecole d'acqua 70-80% di acqua quindi pensate quanto sia importante la nostra acqua del corpo dovremmo essere una pozzanghera no? e invece come mai siamo così coesi grazie proprio a questa forza di coesione magnetica elettromagnetica nucleare a che anche in questo caso vedete pensate che nel nostro campo magnetico dell'acqua si muovono tutte le molecole i segnali che vanno alle cellule ai recettori ai trasmettitori a livello del DNA mitocondriale della DNA che si srotola e rotola a seconda di quello che accade nell'ambiente dentro il nostro organismo quindi vedete che se noi mettiamo l'acqua del nostro corpo a contatto con i vari campi elettromagnetici l'acqua impazzisce e pensate quanto stress ossidativo che noi produciamo ecco perché ci sono c'è un aumento vertiginoso di persone elettrosensibili di sensibilità chimica multipla che magari poi vanno incontro a malattie gravi dovute a campi elettromagnetici e questo è la linea guida dell'European 2016 cercatevelo è un documento importante se me lo chiedete ve lo faccio anche avere attraverso Nico questo è un documento importantissimo che spiega proprio quello che vi dicevo prima virus, batteri traumi, funghi pesticidi inquinanti industriali metalli solventi tutto questo provoca un aumento dello stress nitrossativo ossidativo e aumento l'elettrosensibilità chimica multipla l'elettrosensibilità e la sensibilità chimica multipla e quindi abbiamo bisogno di una capacità antiossidante e di una funzionalità mitocondriale in grado di combattere questi danni che sono trasversali per tutti e pensate far già crescere un bambino con quello in questo ambiente è follia e addirittura siamo al 60% dei ragazzi che rischia l'infertilità siamo sempre quindi consapevoli che dobbiamo fare delle domande precise cosa è possibile fare oggi per capire cosa stia interferendo sulla salute quali cause e con cause quale strumento abbiamo a disposizione per valutare questi fattori quanti sistemi conoscete che sono in grado di dare un'informazione così completa beh il dispositivo S-Drive il test epigenetico sul bulbo del capello permette di ottimizzare quindi in maniera personalizzata le varie carenze nutrizionali vitamine minerali aminoacidi e soprattutto conoscere quale danno ambientale abbiamo perché se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto rischiamo di restare dove siamo però noi cosa possiamo fare ancora dobbiamo diventare saggi evitare problemi per la medicina personalizzata predittiva preventiva partecipativa dove alla fine dobbiamo rimettere in moto questo motore mitocondriale apportare ossigeno perché le varie forme di ipossia ipossica stagnante istotossica non ci fanno recuperare nella maniera adeguata e quindi inizia i danni tessuti l'infiammazione pensate nell'ischemia riperfusione di voi atleti cosa accade che se uno non è ben allenato non è bene ossigenato non ha una capacità antiossidante rischia di creare infiammazione ecco perché è fondamentale conoscere queste cose nuovi studi rilevano come l'adattamento all'ipossia dipende dall'attivazione in processo che serve a nibire la respirazione e quindi impedire l'utilizzazione di pirovato che è il precursore dell'allattato da parte di mitoconda e qui dobbiamo assolutamente lavorare su queste tematiche è fondamentale per fare vera prevenzione per prevenire tutte queste malattie attraverso la corretta ossigenazione per rafforzare il sistema immunitario perché i mitocondri ci permettono di fare prevenzione la salute mitocondriale ci permette di contrastare le malattie metaboliche degenerative l'invecchiamento i tumori è fondamentale e non solo per la performance il recupero l'allenamento eccetera ma per la nostra vita e anche per combattere l'inquinamento gli studi ormai stanno dimostrando questo e perché tutte le malattie sono legate a una disfunzione mitocondriale o mancanza di utilizzazione dell'ossigeno o ipossia quindi invece caricare le batterie dei cellulari sarebbe meglio caricare le batterie dei nostri mitocondri e spegnere l'infiammazione che è il precursore di tutte le malattie rafforzare il sistema immunitario incominciare proprio a avere questa chiarezza mentale non solo pensare ai virus ma alla salute del timo della milza del midollo osseo dell'apparato dirigente digerente dei succhi gastrici della barriera immunitaria e le cose le sapete benissimo quale sono da fare è che come mai non c'è un'informazione chiara su quanto sia importante fare per fare vera prevenzione midollo osseo timo linfonodi la milza naturalmente anche questo non lo diciamo noi ormai è scienza sono andato a prendere proprio la concorrenza ma quelli che decidono ufficialmente la medicina quindi non possiamo assolutamente contraddirli ecco loro dicono attenzione dobbiamo lavorare sul sistema immunitario attraverso queste la salute di queste cellule e poi quindi dei variegato quando parliamo di integrazione voi sarete molto esperti dobbiamo capire perché dobbiamo integrare beh l'abbiamo capito lo sapete bene quali integratori qui non c'è un'abbastanza conoscenza l'importanza della capacità antiossidante se un integratore vale l'altro chiedete sempre ah interessante il tuo integratore qual è la capacità antiossidante del tuo antiossidante che dici che dovrei assumere e qual è il dosaggio qual è la biodisponibilità qual è la via di somministrazione e la forma di somministrazione perché altrimenti ci riempiamo di grandi pastiglioni ma alla fine poi affatichiamo gli organi montori e quindi è un problema alliello fegato reni eccetera e pelle quindi noi dobbiamo anche lavorare sui micronutrienti perché non ne teniamo in considerazione le sostanze attive utilizzabili in ambito di nutrizione di segnale per esempio e qui ce n'è qualcuna quelle che servono per la modulazione immunitaria per la disintossicazione per eh proprio lavorare sullo stress cronico perché il problema si sombra e allora dobbiamo anche tutelare l'invecchiamento non meglio un uovo oggi che una gallina domani bisogna stare attenti anche poi e capire beh ma dove vogliamo essere domani quello che stiamo facendo poi potrò pagare un prezzo domani di quello che faccio quindi attenzione all'infiammazione allo stress ossidativo ai carichi esagerati e monitorate sempre supportate sempre è chiaro che conoscere poi quelle che sono le nostre carenze e fa bisogno è importante ecco perché un test come S-Drive potrebbe essere una chiave rivoluzionaria nel mondo dello sport ma non se ne parla non se ne parla c'è poca cultura anche su l'aspetto epigenetico e sulle varie carenze e poi la corretta ossigenazione come vi dicevo perché qualsiasi malattia cronica causata è una carenza di ossigeno a livello cellulare ci dice Ghiitone test di fisiologia Warburg ci prese in premio Nobel nel 31 l'ipossia crea modificazioni epigenetiche poi e compromette anche il l'efficacia di molte terapie noi abbiamo scritto un libro la modulazione fisiologica d'ossigeno non demanda è l'ultima sfida della nutraceutica a cura del dottor Iorio con altri 20 medici tra cui Massimo Spattini insomma tantissimi che si occupano del mondo dello sport della salute e della prevenzione ecco che l'inccellenza nella della tecnologia della nutrizione sportiva passa attraverso una funzionalità muscolare quindi abbiamo bisogno di conoscere hai mai messo benzina in una macchina diesel o viceversa la stessa cosa sono le nostre cellule se noi non conosciamo che un'attività sportiva intensa può causare un aumento dello stress sedativo e quindi il danno di moltissime malattie causare moltissime malattie non andiamo a nessuna parte dobbiamo assolutamente controllare l'eccesso di radicali liberi anche per tenere sotto controllo l'aspettativa di vita la longevità e la nostra salute è proprio un paradosso basta pensare a quello che è successo nell'aerobica che poi si è scoperto che alla lunga andare c'è un invecchiamento precoce causato da questa iper allenamento e quindi produzione di radicali liberi è legato a oltre 100 malattie lo stesso per esempio guardate nella maratona solo dopo un apporto antiossidante c'è stato un rientro guardate nei giocatori di baseball nel softball nel triathlon è molto importante avere questa chiarezza lo sport è vita assolutamente sì ma poi va anche fatto in una maniera adeguata adeguata e soprattutto vanno conosciuti certi meccanismi vedete anche del recupero con un apporto adeguato di antiossidanti in questo contesto noi da sempre proponiamo Selfood che è un pool antiossidante sinergico e sistemico è un modulatore fisiologico di ossigeno on demand che ha proprio la capacità di bloccare l'ipossia l'acidosi quindi lo stress sedativo e proteggere l'endotelio e dare ossigeno l'energia migliorare il recupero aumentare quindi tutti quei fattori che ci permettono poi di avere una qualità della vita ottimale e rispondere ai vari carichi di stress ecco le varie indicazioni che ha questo prodotto straordinario che vi dico è l'unico uno dei pochissimi nutraceutici con ricerca scientifica pubblicata a livello internazionale aumenta la capacità antiossidante fino all'80 scusate l'ossigenazione fino all'80% con una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano e quindi ci permette di essere altamente sicuro pensate che 22 anni 23 anni in Italia e oltre 52 anni nel mondo questo prodotto olimpiadi triatleti maratonetti ciclisti bodybuilder eccetera assolutamente a tossico quindi se ne può bere anche 5 grammi per chilo di peso senza tossicità e chiedete sempre se vi danno un prodotto chiedete ma questo è tossico ha la DL50 ha la capacità antiossidante ha l'assenza di queste sostanze è fondamentale per l'integrazione poi deve essere biodisponibile assimilabile vedete questo prodotto diventa un colloide messo nell'acqua e ci permette proprio di liberare ossigeno idroso nello stato nascente e veicolare tutte le sostanze a livello cellulare perché e quindi fare delle formulazioni sia sublinguali che sprati massima assimilazione qui ci sono vari studi sono stati fatti vi faccio vedere questo sull'aumento dell'emoglobina i globuli rossi e i globuli bianchi l'ematocrito il V2 max il ferro ferritina vedete questo è uno studio su 45 atleti in doppio cieco che ha dimostrato che aumenta diminuisce l'acido lattico aumenta il V2 max diminuisce il cosiente respiratorio aumenta l'emoglobina i globuli bianchi quindi ci permette di liberare ossigeno idrogeno nello stato nascente fare un'azione antiossidante e ossigenare le cellule un'altra parte importante di cui voglio parlare è proprio questo il fatto che SELF ci permette di lavorare sullo stress sedativo e quindi questa sindrome che conoscete benissimo di Rouleau che impila i globuli e quindi dobbiamo assolutamente ossigenare vedete prima e dopo per migliorare anche questa malattia che durante la performance atletica fornendo un aumento di ossigeno in base all'aumento di ossigeno biologico e quindi tutti i globuli sanguigni vitali vengono mettati è fondamentale avere un prodotto nello sport che fa questo guardate l'aggregazione a sinistra e poi a destra i globuli rossi ossigenati questo è lo studio indoprocecco con placebo vedete aumento della saturazione dell'emoglobina aumento dell'ematocrito modulato l'ematocrito è veramente interessante l'azione che fa proprio SELF sull'aumento dell'ematocrito ma senza mai aumentarlo perché non è indicato per aumentare l'ematocrito ma modula e migliora tutti i parametri e quindi li tiene sotto i range aumenta i globuli rossi aumenta i globuli bianchi aumenta il 2 max riduce il battito cardiaco quindi potete anche spingere di più eccolo qua gli studi insomma che abbiamo fatto sulla fibromialgia sulle patologie generative sulle cellule endoteliali abbiamo proprio dimostrato che questo prodotto riossigena le cellule modula la superossidone di smutasi potente antiossidante endogene insieme a glutazione e tutti gli studi li trovate pubblicati online è un prodotto che si usa a gocce tre volte al giorno prima dei pasti in un bicchierone d'acqua pieno e si arriva fino alle 8 gocce tre volte al giorno normalmente nello sport c'è chi lo assume anche a 20 gocce tre volte al giorno e poi c'è una linea importante di nutraceutici in formulazioni spray suprlinguali mirati alle esigenze tra cui anche il silicio colloidale per i tendini tessuti per l'osteoporosi la rimanizzazione del tessuto osseo antinfiammatori molto interessante il dye switch insieme al multivitaminico spray perché il dye switch è uno switch del metabolismo pensate che questo prodotto in Sudafrica viene dall'istituto Pretoria viene chiamato self food sport e questi sono i protocollo che usano moltissimi atleti tra cui abbiamo fornito per nove anni la Juventus Serie A insomma e tantissime altre squadre di calcio e non solo maratonetici ciclisti voglio parlare di questo lancio mondiale che si chiama Cell Immuni è un prodotto con 20 piante fitoterapiche che con 4 spray 3 volte al giorno sublinguali permette di modulare il sistema immunitario ed è un'azione antivirale prodotto unico al mondo e raro e questo prodotto lo abbiamo formulato insieme ai massimi esperti di fitoterapia a livello mondiale cosa possiamo fare come vi dicevo prima per conoscere le sostanze che possono danneggiare la nostra salute c'è chi di voi sicuramente ha fatto una risonanza magnetica e questo è un test biofisico medicina quantistica che emette risonanza magnetica e emette questo campo magnetico molto forte questo poi l'ecocardiografia l'elettrocardiogramma cosa misurano onde frequenze dei nostri delle nostre cellule del nostro cuore dei nostri organi poi abbiamo questi strumenti che poi danneggiano anche la nostra salute la coerenza cardiaca importantissima il magneto cardiogramma è fondamentale anche questo pensate che si usa il magneto cardiogramma adesso per scovare le aritmie cardiache direttamente già a livello fetale noi utilizziamo creiamo un report epigenetico e diamo un report di 36 pagine c'è quello per essere ottimale sistema immunitario ma c'è anche per lo sport specifico se uno vuole per capire come intervenire prendiamo il bulbo del capello che contiene tutto archivia tutto quello che è successo alla persona archivia circa 80 90 giorni ma non solo tutte le informazioni del micro e macroambiente quello che succede dentro di voi quello che accade all'esterno quindi in quanto questo ambiente ha danneggiato l'organismo di quella persona perché vedete è un'antenna il bulbo del capello quindi se noi la prendiamo come fanno i medici della NASA con gli astronauti possiamo valutare la salute delle persone come facciamo lo mettiamo questo questo biomarker perché come sapete il bulbo del capello i capelli sono utilizzati anche per chi fa uso di sostanze stupefacenti per capire se una persona vive o lavora in una zona inquinata e non so noi se conosciamo lo spettro quindi la lunghezza d'onda di quella di quella sostanza basta misurare la frequenza e avere la lunghezza d'onda noi risaliamo alla sostanza è quello che ne fa questa tecnologia straordinaria che è S-Drive genera uno spettro di frequenze da ultravioletto all'infrarosso quando mettiamo i capelli sopra la bobina e facciamo la scansione in 10 secondi mappiamo tutto quello di cui ha bisogno quella persona e in 12 minuti riceviamo un report personalizzato per intervenire a scopo preventivo dare nutrienti di cui ha bisogno sapere i cibi additivi di cui ha bisogno o quelli da eliminare quale sostanze chimiche tossine e radiazioni stanno condizionando la salute di quella persona quali batteri funghi muffe spore virus stanno condizionando la salute di quella persona quindi pensate siamo in una vera e propria rivoluzione epigenetica e dove abbiamo anche gli indicatori dei danni da campi elettromagnetici è il telefonino è il wifi è il computer e poi diamo dei consigli per rigenerare le cellule nuove proteine nuovi enzimi nuovi ormoni nuove cellule questa è la mappatura epigenetica intelligente che ci permette di lavorare assolutamente sulla persona migliorare la performance questo è un un articolo importante pubblicato su Milano Finanza dove ci hanno intervistato proprio su l'importanza di questo test siamo tutti connessi e allora la vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima ma anche quella di un uomo e il tuo benessere dipende da te dipende assolutamente da noi dalla nostra responsabilità dalla nostra cultura dall'esempio che diamo perché vedete ci saranno sempre dei sassi sul nostro cammino dipende da noi se farne dei muri o dei punti perché non è la statura che fa grande una persona neanche il suo conto in banca ma è quello che ha nel cuore e allora riappropriamoci dalla nostra vita con atteggiamento e consapevolezza che ci permette anche di aiutare gli altri perché dobbiamo anche sempre di più gridare al mondo che la vita senza amore non ha senso grazie grazie veramente di cuore grazie Nico vi auguro un buon proseguimento di corso e per qualsiasi cosa sono a disposizione questi sono i miei dati se volete fare una foto e contattarmi sono a disposizione buona domenica buon proseguimento e grazie a tutti grazie a tutti